La prima bimba straniera nata a Torino nel 2012 oggi è un po' meno straniera perché il Comune ha deciso di conferirle il sigillo civico, la più alta onoreficenza cittadina che consegna alla piccola la cittadinanza onoraria. Lei si chiama Laila Abdane, ha 5 mesi ed è marocchina, i suoi genitori che in Sala Rossa hanno ritirato emozionatissimi l'onoreficenza vivono in Italia da 3 anni il padre e da 12 la madre, eppure la legge ancora non consente a questa bambina di essere italiana a tutti gli effetti. Una legge che secondo chi occupa gli scranni della Sala Rossa, affollati ieri da amici e parenti della famiglia di Laila, andrebbe rivista in una città che crede nell'integrazione e conta una percentuale di stranieri residenti pari al 17%, 20% se si considera anche la popolazione sotto i 20 anni. Una giornata importante per la nostra città e per la dimostrazione di quanto il capo dello Stato aveva già suggerito e invitato a fare come Parlamento, noi lo vogliamo fare non solo nella forma ma anche nei fatti, onorando questa bellissima bambina che è nata il primo di gennaio e offrendole la cittadinanza simbolica ma una cittadinanza importante con un sigillo civico. Se Flì, insieme ai radicali e altre forze politiche hanno applaudito l'iniziativa di Palazzo Civico, non sono mancate le polemiche targate Lega Nord, che per bocca del capogruppo in comune Fabrizio Ricca impugna la Costituzione e fa notare come la legge non lascia alcun margine di interpretazione. Siglio Viale, intanto, presidente dei radicali italiani, ha annunciato che a giorni sarà discussa in Consiglio Comunale la sua proposta di conferire la cittadinanza onoraria a tutti i figli degli stranieri nati a Torino. Grazie a tutti.